prova d'orgoglio della turris che si aggiudica lo scontro salvezza contro la gerbison e rilancia le proprie ambizioni di permanenza in terza serie primo tempo equilibrato con gli ospiti che si rendono pericolosi con tumminello ma il suo tiro finisce ampiamente fuori coralini poco incisivi con la migliore occasione che capita sui piedi di guida ma palla alta ripresa che si apre ancora con i cilentani in avanti sempre con tumminello che si avventa su un cross dalla destra ma conclude ancora fuori a quarto d'ora è contesto a provare al limite ma anche stavolta la palla finisce alta alla mezz'ora di sena in contropiede prova a impensierire fasolino ma il tiro finisce tra le braccia dell'estremo difensore ma quando mancano cinque minuti alla fine arriva l'episodio che decide il match punizione di franco respinta della difesa la palla arriva a zampa che calcia verso la porta trovando la deviazione vincente di leonetti che spiazza natrella e porta in vantaggio la turris nei minuti finali fasolino con un grande intervento sventa un colpo di testa ravvicinato e risultato finisce così nel boato dei tifosi corallini che cominciano a intravedere di nuovo la salvezza diretta ora distante un solo punto prossimo appuntamento domenica pomeriggio sul difficile campo di pescara